Sindaco Mastromauro, si parla tanto di bandiere blu sulla costa abruzzese, ne sono arrivate meno rispetto agli altri anni. A Giulianova la bandiera blu non è arrivata, ma c'è in questo caso una motivazione ben precisa. Quale? Ma intanto Giulianova quest'anno non ha richiesto la bandiera blu, questo per il fatto che c'è un problema da risolvere su tutta la costa della regione Abruzzo, modificare il protocollo attraverso il quale l'Arta effettua i prelievi. A Giulianova in particolare il 13 maggio del 2013 venne fatto un prelievo il giorno successivo a un nubifraggio di dimensioni colossali, non si può fare i prelievi quando c'è stato un nubifraggio perché le acque più cristalline anche alle Antille risulterebbero poco cristalline. Ma questo è un altro aspetto. Sulla costa della regione Abruzzo, io me ne sto occupando per delega dell'Anci, c'è un problema grande che può essere risolto in una maniera, modificando alcuni protocolli, perché non è che la costa abruzzese all'improvviso è diventata poco appetibile. Ci sono altre regioni che utilizzano altri strumenti. Allora, posto che dobbiamo migliorare in molte zone la depurazione delle acque, quindi i sistemi di depurazione, i depuratori in buona sostanza, posto che dobbiamo completare un lavoro che non è stato mai fatto sui corsi d'acqua e quindi con i contratti di fiume, così come ho chiesto più volte alla regione e vedo che questa volta il governatore D'Alfonso è sensibile, al contrario degli altri governatori che si sono preceduti prima di lui, ma bisogna fare un'altra opera, perché anche quelle poche bandiere blu che sono state ottenute non sono un giusto riconoscimento alle nostre qualità ambientali che da sempre albergano nella nostra regione. Sono bandiere blu parziali, anche Giuliano avrebbe potuto chiedere la bandiera blu solo per un tratto di spiaggia. Non lo ha voluto chiedere perché o la bandiera blu se la si ottene per tutto il tratto di arenile o risulta amputata.